Sono Patrizia, spesso capita che i tuoi problemi vengano sottovalutati o vengano resi minimali ma quando si tratta del proprio sorriso questo non è esattamente ciò che ti aspetti da un professionista a me è successo di avere dei seri problemi masticatori oltre che estetici e di trovare sempre soluzioni poco adatte a quello che io cercavo come per esempio togliere tutti i denti e mettere una dentiera che a mia età per quanto sia non è una cosa auspicabile per cui dopo svariati consulti mi ero un po' demoralizzata ecco che ho sentito parlare del studio Perondi e mi ci sono rivolta per un primo consulto da questo primo consulto è nato il mio percorso nel quale per fortuna ho trovato soluzioni adatte alla mia problematica in tempi molto brevi essendo coccolata e avviata al lavoro che era da svolgere in maniera molto professionale il fatto di prendersi carico di un paziente in maniera propositiva ascoltandolo sia dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista emotivo ha fatto proprendere la mia scelta nello studio Perondi e assolutamente affidandomi e fidandomi nel dottor Perondi questo ha portato sì che nel giro di 12 mesi il lavoro che sto portando avanti sia quasi giunto al termine senza avere la necessità di ricorrere a soluzioni poco adatte al mio stato emotivo e anche alla mia soluzione che avevo nella testa quindi ho trovato la soluzione che cercavo consiglio lo studio Perondi per due motivi il primo è che è uno studio dove la professionalità si respira dall'ingresso che si ha in studio fino alla pratica che il dottor Perondi usa che sono tecniche di ultima generazione e quindi alla vanguardia sia perché ti senti assolutamente a tuo agio e non hai necessità di nascondere quello che è il tuo problema il consiglio è rafforzato anche dal fatto che l'intervento che ho dovuto il primo intervento che ho dovuto affrontare è stato un intervento che ha richiesto molte ore e nonostante questo quando sono uscita dallo studio sono andata finalmente a cena mangiando e masticando senza nessun dolore e adesso io finalmente sorrido senza nessun problema mangio e mastico in maniera corretta perché questo è stato l'intervento più importante e soprattutto sono molto più sicura di me e quindi